Il giorno di ferragosto a Torrette si vivrà un momento di raccoglimento, una iniziativa che gravita attorno alla Madonna. Questa festa è nata nel 2004 da Gabriella Lambertini, l'abbiamo poi ammalata, venuta a mancare per malattia e noi l'abbiamo riproposta e portata avanti. Sono la bellezza di 12 anni, di cui ci sono in spiaggia, spiaggia libera in via Stelle di Mare, si svolge automaticamente tutti i 15 di agosto, che è il giorno di ferragosto, e ricordiamo questa festa dell'Assunta con canti mariani, e poi ci sono degli omaggi floreali all'Assunta, alla Madonna, che sono portati a largo con il bagnino. Poi ci sono tutti dei palloncini multicolori, bianchi e celesti, che si scrivono dei messaggi che ognuno di noi vuole mandare un messaggio alla Madonna, perché si sente liberarsi di qualcosa, di qualsiasi problema che abbia nella famiglia e tutto quanto. Il tutto si svolge alle 10 del mattino, sempre in spiaggia libera, dalle 10 circa a mezzogiorno. Il punto di ritrovo è via Stelle di Mare, proprio spiaggia libera centrale di Torrette di Fano.